Consigli cinecomicosi? Sì, perché io non è che sono fissato di più. Partiamo dal mitico Shazam della DC Warner, uscito nell'aprile del 2019, scritto da David F. Samberg, protagonista Zachary Levy. Shazam! Bastati nella parola. Secondo film, sempre del 2019, Joker, scritto diretto da Todd Phillips con grande protagonista Joaquin Phoenix. Ma non dimentichiamolo, c'è anche Robert De Niro, il film dell'anno. Terzo titolo, The Suicide Squad, missione suicida, uscito nell'agosto del 2021, scritto diretto da James Gunn. Non annoia neanche un momento e soprattutto ti fa battere continuamente il piede al ritmo di una musica onnipresente. Forse il miglior cinecomic di tutti i tempi? Sicuramente uno dei più divertenti. Eccolo qui. Quarto titolo abbiamo The Batman. Uscito nel marzo del 2022, scritto diretto da Matt Reeves, con protagonista un sorprendente Robert Pattinson e con un cast di ottima qualità. Dura tre ore, ma sono tre ore che volano. Una delle versioni di The Batman più coinvolgenti. Il primo Batman veramente crime investigation. E' dolce sin fundo proprio lui. Il più morboso di tutti. Morbius, quello della Sony. Grande protagonista Jared Leto. E in arrivo una nuova leggenda Marvel, uscito nel aprile 2022. E in arrivo una nuova leggenda Marvel, uscito nel aprile 2022. E in arrivo una nuova leggenda Marvel, uscito nel aprile 2022.